Due dei più conosciuti e performanti indici azionari a livello mondiale sono, senza ombra di dubbio, l'S&P 500 e il Nasdaq 100. Il primo rappresenta circa l'80% della capitalizzazione di mercato degli Stati Uniti, mentre il secondo rappresenta l'incirca il 13%. Ma quale fra i due ha performato meglio negli ultimi 30 anni? Inoltre, in quale converrebbe di più investirci? Dell'S&P oppure del Nasdaq? Quest'oggi, ragazzi, approfondiremo per appunto questo argomento. E alla fine del video vi darò il mio personale parere su cosa farei io a livello di investimento. Prima però cominciamo dal capire in cosa consistono tali indici azionari. L'S&P 500 è la massima espressione dell'andamento dell'economia americana e della performance del mercato azionario USA. È stato creato nel 1957 dall'agenzia Standard & Poor's per rappresentare le 500 maggiori società quotate alla borsa di New York o al Nasdaq. Ovvero i due principali mercati azionari degli Stati Uniti. Invece il Nasdaq 100 è nato nel 1985 e rappresenta le 100 maggiori società non finanziarie quotate al mercato Nasdaq. A differenza dell'S&P che, come vedremo dopo, ha un'esposizione settoriale molto più diversificata, il Nasdaq 100 si affaccia prevalentemente sulle società tecnologiche ad alto potenziale di crescita. Ma su quale dei due converrebbe esporsi in ottica di effettuare un investimento di lungo periodo? Magari attraverso dei piani di accumulo? Più avanti condividerò con voi la mia personale opinione. Comunque, a proposito dei piani di accumulo. Se avete bisogno di un broker sicuro in cui investire in oltre 7500 azioni e in più di 1700 ETF, ragazzi io vi consiglio Scalable perché è lo stesso broker che utilizzo anche io e mi ci trovo veramente bene. Le tre cose che adoro di più di esso sono la sicurezza, la semplicità d'uso e il fatto che i piani di accumulo sono gratuiti anche per la versione free del broker. Ecco, se volete maggiori info trovate qui sotto in descrizione il mio video recensione. Prima di andare a vedere le performance dei due indici, dobbiamo approfondire bene un paio di differenze che sussistono fra i due. La prima riguarda la ponderazione delle società all'interno, cioè il modo in cui le società che compongono gli indici vengono pesate. L'S&P 500 usa o la ponderazione per capitalizzazione di mercato, il che significa che le società più grandi hanno un impatto maggiore sull'andamento dell'indice rispetto a quelle più piccole. Quindi in questo caso l'andamento azionario di Microsoft, che è l'azienda più grande, sarà quello che avrà l'impatto più significativo. Anche la ponderazione dell'indice Nasdaq 100 si basa sulla capitalizzazione di mercato, però a differenza dell'S&P, le società con una market cap eccessiva vengono ridimensionate per evitare una concentrazione esagerata in pochi titoli. È importante sapere che entrambi vengono ribilanciati con frequenza, in modo tale da riflettere con accuratezza i cambiamenti che avvengono all'interno delle società americane. La seconda grande differenza riguarda invece la diversificazione settoriale, cioè la distribuzione del capitale in diversi settori economici. Il Nasdaq 100 è più esposto ai settori innovativi, come la tecnologia, la sanità e i servizi. Circa l'83% del capitale è concentrato solo in queste tre aree, di cui il 57% solo nel settore tecnologico. Il Nasdaq ignora completamente alcuni comparti su cui si espone invece l'S&P, come quello finanziario, energetico oppure quello dei materiali. Invece le telecomunicazioni e i servizi pubblici sono praticamente inesistenti. Dal canto su l'S&P 500 ha un'arma in più, in quanto è molto più bilanciato su diverse macro aree. La tecnologia anche nel suo caso gioca un ruolo cruciale, però di certo non pesa per il 57%, ma solo per il 23%. Altri comparti, come quello industriale e finanziario, non saranno di certo appetitosi per noi investitori, però coprono comunque una percentuale dignitosa dell'intera composizione dell'indice, in quanto sono rappresentativi dell'economia americana. Quindi, da qui ci rendiamo conto che investire nel Nasdaq 100, anche se ha stracciato i rendimenti del suo rivale più vecchio, e tra poco lo vedremo, è decisamente più rischioso. Infatti una battuta d'arresto del settore tech penalizzerebbe molto di più il Nasdaq 100, proprio come è successo durante la bolla delle dot com, in cui l'indice è arrivato a perdere l'80% del suo valore tra il 2000 e il 2003, per poi tornare ai livelli pre-bolla solo 12 anni dopo. Al contrario, l'S&P nello stesso periodo ha perso il 30%, tornando ai livelli pre-bolla meno di 4 anni dopo. Anche se la bolla delle dot com è stata una batosta per il Nasdaq, questo indice nel lungo periodo ha distrutto le performance del suo collega più vecchio. Secondo i calcoli che mi sono usciti fuori, prendendo come riferimento i dati di Yahoo Finance, tra il 1990 e il 2024, quindi parliamo di 34 anni, il Nasdaq 100 ha ottenuto un rendimento medio anno del 17,6%, mentre quello dell'S&P è stato del 10,6%. Ovviamente questo ritorno è venuto fuori tenendo conto del reinvestimento dei profitti. E se una persona avesse investito 20.000 euro nel 1990 in questi due indici, quanto avrebbe ricavato 34 anni dopo lasciando agire l'interesse composto? Allora, se avessimo investito 20.000 euro nel Nasdaq 100 nel 1990, l'investimento sarebbe valso quasi 8 milioni di euro nel 2024. Invece se avessimo investito 20.000 euro nell'S&P, l'investimento si sarebbe trasformato in quasi 1.200.000 euro. Una cosa da tenere presente è che il Nasdaq 100, anche se a livello storico ha sfornato rendimenti da paura, ha avuto una volatilità molto più aggressiva rispetto a quella dell'S&P 500. Questo, ragazzi, deriva dal fatto che è composto principalmente da aziende tecnologiche, che durante certi cicli tendono ad avere una maggiore oscillazione rispetto ad altri settori più stabili, tipo quello finanziario o energetico. Per esempio, il Nasdaq 100 ha avuto una forte crescita tra il 1997 e il 2000, raggiungendo il suo picco il 10 marzo 2000. In questo periodo, la volatilità è stata relativamente bassa, indicando una certa stabilità dei prezzi. Tuttavia, dopo il 2000, ha subito un crollo verticale, perdendo il 78% del suo valore in meno di due anni. Questo fenomeno è stato causato, come tutti ben saprete, dalla bolla delle dot-com, una bolla speculativa che ha coinvolto le aziende legate a internet e alla new economy. Ora, amici, è arrivato il momento che io esprimo al mio commento finale su come una persona potrebbe comportarsi a livello di investimento. Ovviamente, io non sono un consulente finanziario, e tutto ciò che dirò non va preso come consiglio di investimento. Mi raccomando, fate sempre le vostre ricerche. Dunque, la tecnologia è un settore che non morirà mai. Ma questo non sta a significare che le aziende tecnologiche, se hanno fatto molto bene in passato, continuino a fare lo stesso anche in futuro. Quando si investe nelle aziende tecnologiche, si corre un maggior rischio, perché queste compagnie tendono ad essere sopravvalutate, in quanto gli investitori sono disposti a pagare di più oggi perché sono convinti che l'alto tasso di crescita di questa categoria di aziende moltiplicherà il loro investimento col passare degli anni. Però mi chiedo una cosa, e se invece nei prossimi 10-15 anni le grandi aziende tech non riuscissero a soddisfare le aspettative di crescita degli investitori, magari perché nel prossimo decennio la politica monetaria super accomodante non ci sarà più, bisogna tenere in conto anche questo, perché se così fosse il Nasdaq potrebbe sgonfiarsi oppure ottenere dei rendimenti più moderati. Al contrario, investire nelle S&P 500 offre una maggiore stabilità e una minore volatilità grazie alla sua ampia esposizione nei vari settori dell'economia americana. Tuttavia, investire nelle S&P 500 significa anche rinunciare a una parte di rendimento potenziale in quanto le aziende tecnologiche sono quelle che hanno trainato la crescita del mercato negli ultimi anni. In conclusione, ciò che farei io è possedere entrambi gli indici. Magari se si ha uno spirito più aggressivo si può far prevalere nel proprio portafoglio il Nasdaq. Al contrario, se ci si vuole proteggere di più è meglio far prevalere l'S&P. Inoltre, per mitigare il prezzo di carico a cui si acquistano i due indici la cosa migliore da fare, secondo me, è investire sempre attraverso dei piani di accumulo. Quindi acquistare quote in maniera costante tipo ogni mese indipendentemente da ciò che succede fuori e magari essere più aggressivi nell'acquisto quando si verificano dei forti crash. E voi ragazzi, in quale dei due avete investito maggiormente? Nel Nasdaq oppure nel S&P 500? Oppure in nessuno dei due? Per oggi è tutto. Grazie per la visione di questo video. Ciao e alla prossima!